Ben trovati, in questo apportamento vorrei parlare di quella che è la medicina rigenerativa informazionale che ho concepito nel 2009. È un modo di comprendere come tutto l'universo e la medicina di conseguenza sia fatta di informazioni. Le informazioni legano le cose fra loro e in relazione con le altre e in relazione con l'osservatore stesso. Quindi l'osservatore di fatto sta sempre osservando una catena, una concomitanza di informazioni legate fra loro. Nel caso specifico tutto questo nel corpo umano, in tutti i corpi diciamo biologici sulla Terra, è legato all'acqua fondamentalmente e è legato a quella che è la memoria dell'acqua. L'acqua è in tutti i corpi biologici e quindi è il magazzino più grande di dati che possono essere raccolti su quelli che a suo tempo ho già definito i microcristalli di ghiaccio presenti nei fluidi corporei. Questi microcristalli di ghiaccio, come tutti i cristalli, hanno la proprietà di essere fatti da piani di simmetria all'interno dei cristalli. Questi piani di simmetria si comportano esattamente come un microchip in silicone, di silicio, quindi silicon microchip, che ha impresse sui piani di simmetria del cristallo di silicio le informazioni che poi vengono sviluppate e utilizzate dal processore. Bene, noi funzioniamo esattamente allo stesso modo. La differenza è che noi immagazziniamo lo storage delle informazioni è fatto su questi microcristalli di ghiaccio che presentano diverse superfici nei loro piani di simmetria. Ed è la circolazione di questi microcristalli sotto forma di cluster in altre organizzazioni più complesse che permette il passaggio delle informazioni biologiche nell'organismo. Quindi la conclusione alla quale bisogna arrivare è capire che senza movimento, senza passaggio di queste informazioni, non c'è vita. La vita è data proprio dallo scambio di queste informazioni. Ed è questo il punto fondamentale che possiamo vedere nel caso che si abbia un melting, cioè uno squagliamento dei microcristalli. Questo può avvenire solo a temperature superiori a 42-43 gradi. Infatti chi ha febbri così alte di solito non guarisce mai più completamente da quelle febbri perché ha raggiunto lo squagliamento dei microcristalli di ghiaccio e quindi la perdita del database registrato e delle informazioni biologiche vitali e essenziali. Stessa cosa si può avere in un altro salto di temperatura molto bassa, cioè quando il corpo risulti congelato interamente a temperature di meno 10, meno 15, meno 20. Qui si possono avere dei casi di ripresa della vita quando non c'è un blocco totale di tutti i microcristalli di ghiaccio, cioè quando non si è ghiacciato l'intero organismo, l'intero plasma, gli interi liquidi intestiziali. Quindi quando si ha il ghiacciamento completo c'è la morte e non c'è più ritorno. Quando invece si ha un ghiacciamento parziale e la possibilità con un riaumento di temperatura di riprendere la circolazione di questi microcristalli e quindi dell'informazione biologica, ecco che il corpo può riprendersi. Magari non totalmente, perderà un arto, perderà delle dita, perderà una mano, un piede, una gamba, quello che sia, ma il corpo ricomincia a funzionare. Quindi questi sono i due confini entro i quali la vita biologica è possibile. E questo è importante perché di fatto poi ne vediamo l'evidenza nella vita di tutti i giorni. Al di ciò di questo la medicina informativa rigenerativa ha dei principi essenziali. il primo principio è capire che se l'uomo fosse oggi come era quando è stato creato, e quello che è stato creato per me ne sono convinto di quello che è detto il giardino dell'Eden, quindi in quelle condizioni climatiche, che chiamiamole ambientali particolari, è stato creato con un programma attinente a quelle condizioni. Quindi il programma di funzionamento corretto di un corpo o di qualunque essere biologico sulla terra è se rientra nei parametri del concepimento iniziale, della programmazione iniziale. Quindi quando spesso parlo di riprogrammazione di cellule staminali intendo di riuscire a portare cellule staminali ormai corrotte e deviate da un ambiente completamente devastato da quello che era l'ambiente originale, in quell'ambiente l'uomo nell'Eden non conosceva le malattie, non c'erano malattie. Poteva morire di un incidente, di qualunque altra cosa, poteva essere attaccato da una belva, ma non di malattia. Poteva morire di vecchiaia questo sì, perché ovviamente la vecchiaia è legata alla durata tecnicamente teorica del nostro patrimonio cromosomico che nell'uomo è di circa 120-130 anni. Quindi la registrazione di queste informazioni è fondamentale e lo scorrimento dell'informazione è altrettanto fondamentale, perché questa è la vita, il passaggio dai cristalli di ghiaccio all'acqua che conserva la memoria, la famosa memoria dell'acqua, quindi una memoria di informazioni che sono state registrate e trasportate che permettono il funzionamento di tutta la catena ormonale, enzimatica, tutti i meccanismi che permettono alla vita di esprimersi nei corpi biologici. Con questa premessa posso far meglio comprendere la mia azione terapeutica in quella che appunto ho definito la medicina rigenerativa. Rigenerativa perché tendo a rigenerare le cellule staminali. Le cellule staminali sono la fonte della vita, sono il primo movens in un ovulo e uno spermatozoo che si incontrano e dopo il lampo dell'unione avviene la generazione e questa generazione si generano cellule in continuo che si sdoppiano perché si passano questo messaggio, questo software biologico iniziale che è programmato per poter avere poi un individuo adulto. Io a questo punto ho capito che il mio problema per poter curare correttamente le persone era quello di rinformatizzare il sistema rimettendo al centro del sistema le informazioni biologiche essenziali. Quindi attraverso l'uso di farmaci omeopatici ed omotossicologici sono stati in grado di fornire le informazioni necessarie alla riprogrammazione, ripeto intendendo per riprogrammazione poter far ripartire il meccanismo biologico così come era partito all'origine. Di fatto una riprogrammazione completa è oggi impossibile, perché? Che le condizioni ambientali sono cambiate talmente tanto. Io faccio sempre esempio della Ferrari, se noi cerchiamo di far andare una Ferrari con il diesel, beh possiamo ottenere solo dei disastri, certamente non il funzionamento. Bene, noi oggi è come se fossimo organismi concepiti con la benzina, la migliore benzina che oggi stanno andando a benzina scadente minimo se non a diesel. Ed ecco il risultato che vi è un blocco della funzione automatica di rigenerazione, di riparazione, di soccorso dato dalle cellule staminali. Le cellule staminali stanno proprio lì per risolvere i problemi che si vengono ad affrontare durante la vita di un essere umano o un essere biologico in generale. Quindi l'essere umano è stato concepito per poter avere sì un'infiammazione, un fatto acuto, ma non di lunga durata, non cronico. Il fatto cronico non è stato previsto nel programma e noi ci dobbiamo anzi meravigliare di come il corpo umano riesca a sopportare ben lungi dal programma iniziale malattie ormai cronicizzate che gli permettono comunque di vivere diverse decine d'anni ancora. Quindi il poter riottenere il programma iniziale è praticamente possibile. Ma siccome il creatore è stato talmente saggio da darci anche un margine d'errore perché le cellule staminali possano correttamente ricominciare a funzionare, noi dobbiamo fare in modo di riportare il soggetto il più possibile entro i limiti di questo campo di tolleranza che permette alle cellule staminali di riattivarsi. Quindi il concetto dell'Ine-Yang, dell'equilibrio tra questo positivo e negativo che creano la capacità di far partire il meccanismo biologico è il nostro target da raggiungere. Quindi dobbiamo assolutamente correggere stili di vita e di alimentazione così sbagliati, così lontani da quella che era l'alimentazione lì nel giardino dell'Eden, per poter ottenere una ripresa funzionale dei vari organi. Perché di fatto la macchina umana o una macchina biologica qualunque è in grado di autoripararsi. Non è importante come oggi si crede l'intervento esterno, fin quando l'organo e il tessuto è ancora più o meno intatto. Ma la capacità rigenerativa è già espressa all'interno dell'organismo. Il problema è che le cellule staminali, per poter agire in quelle condizioni, si devono sentire dentro la programmazione software originale della macchina. Cosa che oggi voi ben capite è andata fondamentalmente perduta. Quindi lo sforzo che il medico deve fare è di rieducare il paziente ad una vita normale. Si chiede solo di portarlo ad una vita normale, intendendo per normale quello che vi ho già detto. E quindi curare l'alimentazione con quelle informazioni fondamentali che permettano di capire che ciò che pensavano fosse sano, invece è malato. Noi viviamo in una società piena di falsi con cibo altrettanto falso. Quindi dobbiamo imparare a navigare in un mare in tempesta, che è il supermercato, dove noi possiamo ammalarci o rigenerarci a seconda di ciò che compriamo e a seconda della qualità delle cose che compriamo. Possiamo comprare cibi pieni di vereni e possiamo comprare pochi cibi ancora sani o almeno quasi sani che ci permettono di ritornare in quella programmazione più o meno iniziale che permette alle cellule staminali di potersi riprendere, ristabilire che è tornato il momento di lavorare e mettersi a lavorare, riparando tessuti ed organi. Tornando al supermercato e cibi, bisogna capire che il biologico sarebbe ovviamente il cibo migliore possibile. Altra cosa da comprendere, il chilometro zero. Io vorrei cibi che fossero a centimetro zero, cioè come fanno ancora oggi i monaci tibetani che coltivano il loro orto, prendono la patata dalla terra, la puliscono a malapena con le mani e se la mangiano. Bene, stanno facendo un atto abbastanza intelligente perché loro per una data massa, peso di quella patata, loro stanno ingerendo la massima energia che la patata esprime nel momento che viene colta, così come tutti i frutti, così come tutte le verdure. Nel momento che vengono colte hanno il massimo dell'energia vitale e potenziale. Poi vi è un decadimento basato al tempo, allo stoccaggio, ai frigoriferi, a tutto il resto. Quindi alla fine andiamo a mangiare cose che hanno una grande massa consistente e un'energia minima. Anzi, dobbiamo pure spendere energia per digerire quella massa. Quindi vedete bene come il rapporto tra alimento biologico, cioè sicuramente coltivato con determinate regole e prudenze, e l'assunzione di quel cibo è fondamentale perché possiamo mangiare molto meno, essendo molto più sazi, più il cibo è veramente fresco. Non dico a centimetro zero, ma a metro, un metro di distanza, se lo vogliamo misurare in metri. Quello che potete fare tutti come esperimento è le acque minerali. Le acque minerali contengono tutte delle sostanze antiputrefattive. Siccome lo fanno tutti in tutto il mondo, una decisione comune delle compagnie è stata che, visto che lo facciamo tutti, non lo indichiamo sulle bottiglie. Infatti, non troverete nessuna bottiglia d'acqua minerale che dice che ha sostanze che conservano la, diciamo, sterilità dell'acqua, la più o meno sterilità dell'acqua. Cosa che invece, se voi prendete un bicchiere d'acqua da una fonte e provate a lasciarla, soprattutto d'estate, su un tavolino, vedrete che non dura più di uno o due giorni, poi l'acqua puzza. Cosa ben diversa con un bicchiere d'acqua minerale. Ci può stare una settimana tranquillamente che non puzza, anche di più. Quindi pensate alla quantità di sostanze che ogni giorno le persone ingeriscono, che sono sostanze altamente tossiche per i reni e per il fegato. E quindi capite bene il famoso discorso delle condizioni ambientali iniziali. Per avere la riprova è sufficiente andare presso la fonte, una di quelle fontanelle che si trovano sulle strade di montagna, che portano acqua sicuramente da ghiacciai o dall'alta montagna. Bene, anche in piena estate, con la massima sete che potete avere, mentre sareste in grado di finirvi un litro d'acqua minerale e avere ancora sete, quando avrete bevuto direttamente dalla cannella due, tre, quattro bicchieri di quell'acqua, non potrete mandarne più giù. Vi si crea una specie di mattone sullo stomaco. Quel mattone è dato dal fatto che avete preso dell'acqua completamente piena di energia vitale. Quindi è l'energia che vi ha riempito, non il volume d'acqua. E questo ovviamente vale per uno dei nostri supporti biologici essenziali, che è l'acqua. Per i cibi vale lo stesso discorso, i pesticidi e quant'altro, che vengono messi per garantire il risultato del raccolto e la conservazione degli stessi, sono uno dei nostri maggiori nemici. Questa è la parte cibo, quindi capire se quella carne che si mangia è una carne priva di antibiotici, priva di medicinali conservanti, priva di altre sostanze che ne permettano la migliore conservazione, ma sicuramente a scapito della salute dell'utente finale. Ricordate che noi siamo delle membrane a osmosi inversa. Per chi conosce il principio sa che la membrana osmosi inversa fa entrare un determinato liquido, anche tossico, trattiene le sostanze tossiche e fa uscire dall'altra parte un liquido decisamente più o completamente privo di queste sostanze. Bene, noi siamo quella membrana che conserva tutte queste cose che ingeriamo, che vanno a danneggiare tutti gli organi, soprattutto nel grasso si vanno a stabilire, e noi a questo punto ci invecchiamo e ci ammaliamo perché siamo intossicati in modo cronico. Quindi il poter riuscire a fare una pulizia vera dell'alimentazione con una selezione che sia garantita e garantista nei confronti della salute dell'utente sarebbe la primaria regola. Per quanto riguarda poi anche intossicazioni farmacologiche che ci possono essere, questo va visto caso per caso, ma noi già sappiamo dai farmaci stessi, dai bugiardini, che ci raccontano che quel farmaco, devi stare attento così, 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 devono essere escluse questa e quella categoria. Certamente tutto ciò è che hanno più o meno una certa tossicità. Quindi è scritto già nei farmaci. Quindi voi già dovete sapere che acquisendo dei farmaci e utilizzandoli, voi state comunque intossicando in maniera più o meno pesante il vostro organismo. Tutti questi tossici sono quelli che danno luogo a un'infiammazione cronica, a quella che è la cascata delle citochine, lo cytokine storm, cioè la tempesta citochinica, cioè queste citochine che si scatenano all'improvviso e ovviamente danneggiano pesantemente le strutture biologiche. Perché, come ho detto, l'organismo umano è stato concepito per risolvere piccole tempeste citochiniche, ma non tempeste citochiniche croniche. Quindi questo spero che sia un messaggio chiaro. Altra cosa che gli esseri umani dovrebbero tenere presente è che uno dei dati poco mai menzionati in diverse trasmissioni televisive di medicina non si parla praticamente mai del pH. Il pH è questo tasso di acidità o di basicità del sangue. Bene, uno degli elementi fondamentali che equilibra l'organismo umano e altri organismi biologici è il pH. Il pH deve essere rispettoso come quantità, come percentuale, scusate, del pH che è necessario per la filtrazione del sangue a livello renale. Voi dovete sapere che in medicina cinese, naturale cinese, l'organo più importante non è il cuore, ma il rene. Tanto è vero che i medici cinesi che sentono diversi polsi, loro misurano sia il polso cardiaco che quello renale. Bene, se un paziente ha il polso cardiaco che si è fermato, ma il renale ancora attivo, quello può ancora rivivere, mentre invece se il polso renale non c'è più è definitivamente morto. Quindi capite che il rene diventa un organo fondamentale. Bene, il rene filtra il sangue a pH 7.5-7.7 e i glomeruli renali che sono delicatissimi per poter ottenere in un organismo che normalmente è inacidosi, cioè quasi tutti quelli che non mangiano da vegetariani o da crudisti o non sanno di questa storia del pH, hanno quasi tutti un pH che va dai 4.5-5.6, 6.5-7 i più fortunati. Bene, tutte queste differenze per arrivare a 7.5-7.7 debbono essere compensate dall'organismo che va a tamponare l'eccesso di acidità del sangue smobilizzando carbonato di calcio dalle ossa. Così finalmente capirete perché c'è l'osteoporosi. E soprattutto certe cose che vengono consigliate, come ad esempio latticini o yogurt o fermenti lattici, bene, se volete andare in acidificazione prendete proprio quelli che è uno dei miglior sistemi per finire in acidosi metabolica. Quindi ricordate il vostro pH dovrebbe essere almeno di 7.7 io consiglio un pH 8. Cosa succede a pH 5 o a pH 8? A pH 5 i globuli rossi diventano plurilobati, cioè come delle frittelle con tanti bozzi e tendono ad impilarsi, quindi avere quella formazione che è presuppone l'inizio di un trombo o di una zona di ostruzione ischemica. Quindi se volete andare in ischemia o trombosi abbiate un pH acido. Mentre invece a pH 8 i globuli rossi sono tutti perfettamente sferici. Tutte palline perfette, lucide che scorrono una accanto all'altra e scorrono fino nei vasi terminali, quindi nei vasi del letto ungueale, delle mani e dei piedi. E questo fa passare quel senso di freddo che spesso molti uomini, molte donne hanno proprio all'estremità. Quindi per non soffrire più di questo freddo bisogna avere un pH 8. Quando si ha il pH 8 il sangue errora fino in fondo ai capillari estremi delle dita, delle mani e dei piedi rappresentando una perfetta ossigenazione completa, ossigenazione di tutto il corpo umano. Quindi vi consiglio di, se non avete, di comprare in santo le teste in farmacia che vi dicono che il pH avete. Il pH può essere sia salivare che urinario. Più o meno sono abbastanza vicini in molti casi. L'importante è che il pH salivare e quello urinario siano almeno a 7,7-8. Questo garantisce una vita priva di rischi per i reni e priva di rischi a livello di microtrombosi o altre malattie del genere. Quindi bisogna, per riassumere, bisogna imparare a mangiare che molti sono convinti ah io mangio bene, mangio sano, eccetera, eccetera. Poi quando andiamo nel dettaglio escono fuori cose orribili. Ma loro, poverini, non lo sapevano. Nessuno gli aveva detto che attraverso le scie chimiche tutti i raccolti, tutto ciò che è all'aria è comunque contaminata da queste polveri che scendono dal cielo e che riempiono tutta la nostra vita, che respiriamo anche noi. Quindi nessuno l'aveva considerato o la maggior parte non lo sapevano. E una cosa importante nell'alimentazione che voglio completare è il concetto del maiale. Perché il maiale non viene tollerato da alcune regioni importanti come l'ebraismo e l'islam. Perché il maiale e questo è stato scoperto anche da scienziati famosi come Hahnemann e come Rekeweg, che è lo scopritore dell'omotossicologia, Hahnemann è quello invece il fondatore dell'omeopatia. Il maiale è uno degli animali più vicini all'uomo in tutti i sensi. Noi siamo tra maiale e gorilla o scimpanzee. Il nostro corpo all'interno è fatto più o meno come questi due. I chirurghi generali lo sanno bene che si preparano soprattutto facendo chirurgia su maiali perché ritroveranno la stessa identica situazione all'interno del corpo umano. Quindi questa presenza di un simile che in omeopatia si traduce nel concetto similis similibus curantur che vuol dire che Dio ha concepito che anche un simile possa aiutare a far meglio vivere un altro simile. In che senso? Attraverso l'informazione sempre biologica. Quindi io consiglio di evitare finché è possibile la carne di maiale che oltretutto è una delle carni che contiene più cronicamente herpes simplex herpes zoster ma anche perché prendere questa carne in quantità ma anche un etto di prosciutto o quello che sia porta all'acquisizione di una massa di informazioni che poi può impedire il funzionamento di quelle microscopiche quantità di organo di maiale qui si parla di organoterapia che viene usata in omeopatia e in omotossicologia queste quantità infinitesime a dosi omeopatiche di tessuto di maiale può essere inibito nel funzionare sul principio del similis similibus curantur proprio dall'abitudine più o meno di mangiare carne di maiale più o meno spesso ci vuole un po' di tempo per disintossicarsi la carne di maiale e ritornare vergini in modo da poter risuonare da un punto di vista informazionale in maniera efficace sul principio del similis similibus curantur quindi poter utilizzare l'organoterapia come tipo di terapia per guarire di un determinato problema questo penso che sia una precisazione doverosa di cui pochi ne hanno mai parlato io sappia grazie grazie a tutti grazie a tutti